L'ingresso in società verso un'importante, un nuovo sponsor per il futuro, ha detto che è comunque incontro, quindi dovrà economicamente un maggior esempio di giusto rilievo. In futuro, come si sa, per la società del processo, il rischio di cui parlavi alla fine della scorsa stagione, penso di questa, insomma, c'è, rientra anche in questo, vuol dire che evidentemente la PIL della squadra c'è, perché altrimenti, insomma, il nuovo sponsor sarebbe difficile, non è l'imposto, ma anche. Ah beh, non ci sono dubbi che il merito è di tutti e quindi anche dei risultati sportivi e di come la scuola sta in campo. Mi sono piaciute le dichiarazioni dei titolari dell'azienda, perché il gradimento di come la squadra si esprime, di come l'ambiente partecipa intorno alla squadra, per capire questo tipo di momento non era indispensabile e necessario venire al palazzetto, basta girare per i pistoli, basta andare a fare colazione piuttosto che pranzo nei locali dei pistoli e ci si rende conto che oggi basket a pistoli ha ripreso grande vigore, c'è grande partecipazione, c'è grande entusiasmo e quindi per questo motivo tutti quanti noi, dall'allenatore ai giocatori alla società e agli sponsor, abbiamo l'obbligo di cavalcare quest'onda finché rimane alta, perché è il nostro merito, ma è anche la nostra fortuna, altrimenti a breve dovremmo fare tutti quanti di valigie, chi realmente e chi metaforicamente, però questo è un dato di fatto, quindi tutti quanti noi abbiamo l'obbligo di lavorare nella direzione giusta perché in questo momento duri il più nuovo possibile.